Tutti in campo per l'Epifania per il primo torneo organizzato dall'Unione Sportiva Arezzo riservato alla categoria Esor di NTB. Venerdì 6 gennaio sul Mante Erboso del Città di Arezzo ecco il primo trofeo Befana-Amaranto. Sarà un torneo riservato alla categoria Esor di NTB quindi giocheranno 9 contro 9. Saranno delle mini partite da 10 minuti per tempo e durerà dalle 9 e mezzo la mattina fino alle 4 e mezzo la sera. La formula sarà quella di 12 squadre divise in 3 gironi e in 4 gironi da 3 squadre. Le prime classificate faranno poi semifinale per partecipare a finale dal primo al quarto posto, le seconde semifinali per partecipare dal quinto all'ottavo posto e le terze per partecipare dal nono al dodicesimo. Quindi ogni squadra farà 4 partite proprio per dar modo ai bambini di assaporare il campo dello stadio più possibile. Allora dall'Indomita Quarata al Petrarca Calcio, la Virtus Lignano, la San Giovannese, l'Associazione Calcio Femminile Arezzo, la Virtus Archiano, Noi dell'Arezzo, il Marino Mercato Subbiano, il Santa Fermina, la Tuscar e la Nuova Foiano. Quest'anno ci siamo sull'input dei nostri direttori, sia Riccioli che Gemmi. Abbiamo voluto tentare questo allargamento a 6 squadre, proprio per dare un input forte a tutto il movimento giovanile aretino. Proprio perché, anche se siamo in difficoltà con le strutture, però comunque con buona volontà e con tanta collaborazione da parte sia del Comune che della UISP, insomma stiamo cercando di portare avanti questo progetto. Era la prima volta nella storia, forse, che l'Arezzo si avventurava nelle 6 squadre. Adesso per ora il bilancio è estremamente positivo, tant'è che, insomma, come ricordavi te, oltre a essere invitati anche per tutti i tornei, quelli più importanti che ci sono a livello nazionale, per confrontarsi con tutte le squadre professionistiche italiane, abbiamo, insomma, anche avuto una richiesta per, che dovrebbe andare a buon fine per un ragazzo del 2002 che è Andrea Casini, insomma, si può dire, che probabilmente andrà a far parte di una squadra professionistica di Serie A.